Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Tainak Muay Stories. In questo video alcuni sketch di Yoktai Sittor, che come sapete è stato un fortissimo matto Muay, famoso per il suo tremendo multante e per le sue combinazioni di braccia che hanno spedito K.O. molti dei suoi avversari. Yoktai nasce il 25 dicembre 1974 col nome di Manit Kreen May, ed infatti è zio del famoso combattente Sud Sakorn, Sir Klin May, ed anche di Ramba Sondette. Inoltre è fratello del famoso pluricampione dei vari stadi di Bangkok, Tappaya. Yoktai ha portato alto il nome della sua famiglia, ha battuto campioni come Lungobona, Sittler Chai, ha battuto per K.O., Lannamon, Sor Somalè, Saino Morakat, Sor Proecit e tantissimi altri, vincendo poi nel 1994 il titolo di campione dei Lumpini nelle 115 libri. Sempre nel 1994 la potenza dei suoi pugni lo ha portato a competere anche nel pugilato all'inglese, e dopo quattro match con quattro vittorie vince il titolo di campione Pava. Nel 1996, dopo altre sei vittorie consecutive, vince il titolo di campione del mondo WBA nelle 115 libri. Difenderà poi questo titolo per quattro volte, con due vittorie ai punti, una vittoria per K.O., ed un pareggio contro il giapponese Satoshi Ida. Sarà proprio Ida che nel 1997, nel loro secondo confronto, gli strapperà il titolo di campione del mondo. Ed è lì la carriera di Yoktai inizia ad avvicinarsi verso il suo ritiro. Il pugilato ha combattuto 37 match con 28 vittorie, di cui 17 per K.O., 6 sconfitte e 3 parigi. E dopo il suo ritiro si dedicherà all'allenamento sia in Thailandia che in Giappone. Sposerà poi una combattente giapponese di MMA. Competerà in un match di MMA, ma con purtroppo una sconfitta. Ma questo non significa niente, perché Yoktai nella Muay Thai e nel pugilato ha fatto sempre degli ottimi match, è stato un grandissimo campione e un grandissimo combattente. Ci sono tanti match di lui su YouTube, vi consiglio di andarle a vedere. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti!